Grazie Veramente, oltre a fare proprio la cantante potresti fare anche la modella Romano Storace, prendi nota, perché veramente è uno spettacolo Qui abbiamo un grosso agente, quindi di modelle Grazie, sei sempre troppo buona E poi questa mimica, questa interpretazione straordinaria Senti, torniamo però al secondo momento della tua carriera Quando Cristiano Malgioglio scrive per te il talismano Ha scritto il talismano, perché io non volevo più cantare Tu lo sai, io ho lasciato il gruppo e non volevo più cantare Presa da un momento di sconforto forse Come era giusto d'altronde E vabbè, è stato un momento difficilissimo Per cui io non ne volevo più sapere, niente E lui insisteva, Marina ti ho scritto questa canzone, è bella Almeno ascolta, sai E Cristiano è fantastico, è un amico poi Insomma alla fine ho ceduto Perché la canzone è bella, la canzone è bella Allora mi ha riportato indietro Quindi ricomincia la seconda parte della tua carriera Però poi torniamo subito alla prima parte con la prima cosa bella Ah vabbè, la prima cosa bella è un biglietto da visita Perché è stato il primo successo di quando io stavo con i ricchi e poveri Si mangia i gomiti a Sanremo Con questo brano che era veramente carino Veramente particolare Che Gianti Moranti Tutte le volte che I gomiti Si si mangia i gomiti Perché lui non l'ha voluta fare Pensa a te Ha fatto proprio bene Ha fatto bene L'hanno fatta loro L'ha fatta lei Io lo ringrazio sempre Grazie Gianni Noi ti ringraziamo E tante generazioni Marina Ochiena con il talismano La prima cosa bella Grazie cara Grazie